ciao a tutti eccoci qui con un nuovo speciale questa volta dedicato il comodo 64 abbiamo fatto se guardate sul canale dei tre puntate dedicate alla amiga 20 minuti con l'amiga adesso iniziamo con 20 minuti col comodo 64 stavolta parliamo di giochi nuovi che sono stati presentati quest'anno vediamoli assieme e ditemi alla fine nei commenti qual è il vostro preferito partiamo con questo gioco famoso questo bellissimo porting arcade che tutti conoscete si chiama bugman comeback ed eccoci al secondo titolo selezionato nella raccolta dedicata al comodo 64 titolo spiritoso don't break the ball lasciamo agli intenditore in italiano poi può essere la migliore traduzione gustiamolo assieme un titolo alternativo sicuramente carino ricordiamo ricordo a tutti comunque che stiamo parlando di un comodo 64 ancora originale con i suoi 64k graffa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi raccomando un like, iscrivetevi al canale e lascio in descrizione importante ragazzi il nostro gruppo Facebook e iscrivetevi anche lì per trovare tanti amici appassionati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.